Record del mondo e delusioni azzurre a caratterizzare la settima giornata del nuoto in vasca alle Olimpidie di Tokyo 2020. C'era solamente una gara con gli italiani presenti e purtroppo non è andata come sperato. È stata però una nottata molto appassionante e molto divertente, abbiamo avuto delle gare combattutissime e abbiamo avuto anche il primo record del mondo individuale in questi giochi olimpici di Tokyo 2020. Buongiorno a tutti i miei cittadini di sport, ben ritrovati su Molderian Sport Channel. Io sono il stando su qui per parlarvi appunto del recap delle finali e delle semifinali della settima giornata del nuoto in vasca alle Olimpidie di Tokyo 2020. C'era appunto solamente una gara con gli italiani presenti quest'oggi, la semifinale dei 200 dorso femminili con Margherita Panzera e purtroppo non è andata come sperato, ma ne parleremo in seguito infatti, andiamo in ordine di programma. Partiamo subito con le semifinali dei 100 delfino maschili, una gara che vedeva la possibilità di un record del mondo battuto, quello di Caleb Dressel che era minato proprio dallo stesso fenomeno statunitense, record del mondo che però non è stato abbattuto. È stato abbattuto due volte il record olimpico, la prima volta nella prima semifinale con Christoph Milak, già vincitore e dominatore dei 200 delfino che stabilisce il nuovo record olimpico e lancia il guanto di sfida a Caleb Dressel. Caleb Dressel che raccoglie il guanto e fa un tempo veramente spettacolare, 49-71, non basta per fare il record del mondo, è a circa due decimi dal record del mondo fatto registrare appunto dallo stesso Dressel, ma è il nuovo record olimpico nettamente rispetto al tempo fatto registrare da Christoph Milak, circa due tre decimi meglio. Per quanto riguarda invece la prima finale, la prima finale è quella dei 200 rana femminili e anche qui abbiamo avuto una gara di altissimo livello, tant'è che abbiamo avuto appunto il record del mondo. Una partenza micidiale di Lilly King, ma ai 150 metri arriva al sorpasso della sudafricana Tatiana Schoenmaker, già argento nei 100 rana. Veramente una prova micidiale soprattutto nell'ultima vasca, una vasca strepitosa della sudafricana di Pretoria, 2-18-95 è il nuovo record del mondo, prima donna di sempre a scendere sotto il muro, dei 2-19 nei 200 rana. Veramente fantastica la prestazione della statunitense, seguita da due americane, Lilly King e Annie Lazor. E arriva un'altra grande notizia, Lilly King termina queste Olimpiadi senza vincere nemmeno una medaglia d'oro individuale. Ancora la possibilità di vincere un oro, la probabilità anzi di vincere un oro nella staffetta 4% mista femminile e forse anche nella 4% mista mista, però insomma è una sorpresa non vederla sul primo gradino del podio nelle gare individuali. Passiamo dunque alla finale di 200 dorso maschile, un'altra finale di altissimo livello che vedeva la sfida tra l'americano Ryan Murphy e il russo non russo Yevgeny Rylov, russo non russo perché ovviamente la Russia non sta partecipando a queste Olimpiadi come nazionale russa ma come appunto comitato olimpico russo perché a causa appunto delle squalifiche legate al doping di stato. Una grandissima lotta con Murphy che prova a rientrare nel finale, un gran recupero tra i 150 e i 175 metri ma nel finale negli ultimissimi 25 metri ad avere la meglio e comunque Yevgeny Rylov che riesce a conquistare l'oro olimpico con anche il record delle Olimpiadi. Seconda posizione per Ryan Murphy lo statunitense, terza posizione per il britannico Luke Greenbank. Per quanto riguarda invece la finale successiva, la finale dei 100 stile libero femminili anche qui battuto un altro record olimpico a farlo registrare Emma McKeon che riesce appunto a conquistare la gara a vincere l'oro olimpico, la prima medaglia di peso per lei che è una campionessa fa sempre registrare tempi fantastici ma non regge benissimo la pressione come del resto la nostra Margherita Panziera purtroppo e infatti non era mai riuscita a conquistare un oro né a livello mondiale né a livello olimpico e ci riesce appunto quest'oggi battendo la portacolori di Hong Kong già seconda nei 200 stile libero una grandissima prestazione per lei Sioban Hoaghi e terza posizione invece per Kate Campbell un'altra appunto australiana come del resto anche Emma McKeon Passiamo dunque all'ultima finale della giornata quella dei 200 misti maschili con Wang che è in testa dopo le prime due frazioni Andrew mostruoso come sempre nella rana riesce a rimontare e riportarsi appunto in testa alla gara ma poi disastro nello stile libero chiuderà solamente quinto perdendo quattro posizioni disastro per Michael Andrew mentre arriva la rimonta impressionante come ci si poteva bene aspettare di Duncan Scott che è uno specialista appunto dello stile libero ma non abbastanza per superare Shun Wang Shun Wang che fa anche lui uno stile libero mostruoso e riesce a conquistare il titolo olimpico prima posizione per Shun Wang, seconda posizione per Duncan Scott terza posizione per Jeremy De Plange lo svizzero per quanto riguarda appunto la prova dei 200 misti maschili con Michael Andrews con un crollo finale solamente in quinta posizione Passiamo dunque alle note dolenti in chiave Italia le semifinali dei 200 dorso donne assente la campionessa del mondo e recordman del mondo recordwoman del mondo Regan Smith la statunitense ha perso nei trials si è arrivata a terza e quindi non è riuscito a qualificarsi per le Olimpiadi ricordiamo che gli statunitensi hanno un sistema di qualifica veramente durissimo tu puoi essere un fenomeno tu puoi essere campione del mondo recordman del mondo ma se non arrivi nei primi due nelle gare, nei trials, nei campionati americani tu non ti qualifichi per le Olimpiadi puoi essere chiunque puoi essere anche Michael Phelps puoi essere Caleb Dressel ma se non ti qualifichi tu non vai alle Olimpiadi e così è stato infatti Regan Smith per lei che era anche seasonal best di questa stagione davanti proprio alla nostra Margherita Panziera che aveva il secondo tempo stagionale nei 200 dorso lei che è stata campionessa europea solamente due mesi fa che in allenamento faceva registrare tempi strepitosi e arriva invece il disastro malissimo ieri in batteria si qualifica con il quindicesimo tempo se non sbaglio no, con il dodicesimo comunque con un tempo molto alto e quest'oggi è ancora disastro completo di Margherita Panziera oltre 4 secondi dal suo personal best quasi 5 secondi veramente una sottoprestazione incredibile per lei che è capace di nuotare 2.05 è nuotato 2.09 e purtroppo è fuori è prima delle escluse ma nettamente di oltre un secondo rispetto all'ottava posizione no, di quasi un secondo non oltre però insomma di quasi un secondo rispetto all'ottava posizione ed è veramente una brutta tegola che ci si poteva aspettare perché Margherita Panziera ha dimostrato diverse volte tantissime volte che alle olimpiadi ai mondiali quando la pressione sale non è capace di nuotare come sa fare perché una Margherita Panziera al 100% quest'oggi passava come prima con la pipa in bocca perché i tempi non sono stati altissimi non sono stati bassissimi sono stati tempi piuttosto alti quindi una Margherita Panziera al top quest'oggi sarebbe passata veramente con la pipa in bocca anche in prima posizione e domani l'avremmo visto in corsi a 4 e invece purtroppo domani non ci sarà dispiace dispiace però ce lo si poteva aspettare purtroppo nonostante sia veramente una bruttissima tegola qualificate si Bonwiped Bacon la cinese Peng e altri appunto atlete ma purtroppo non vedremo la nostra italiana che era una delle maggiori speranze di medaglia nel nuoto in queste olimpiadi purtroppo appunto Margherita Panziera è fuori comunque ragazzi direi che per questo video è tutto invito a lasciare un commento mi piace iscrivervi sicuramente che sono la nostra pagina di scan mi raccomando iscrivetevi al canale attivate la campanellina per non perdervi alcun video alcun aggiornamento riguardo a queste olimpiadi seguiremo assieme un po' tutti gli sport dalla scherma al nuoto dall'atletica al ciclismo al basket alla pallavolo veramente di tutto di più quello che capita capita e noi lo seguiremo assieme all'atletica